Il miglior videogioco di tutti i tempi è un po' difficile da trovare, anche perché ce ne sono a bizzeffe. Diciamo che il mio preferito è più che altro la saga della Metal Gear, che secondo me è quello che è più curato, diciamo, in tutti gli aspetti. In più dovrebbe, secondo il mio punto di vista, alzare il livello cinematografico nei videogiochi, e quindi tanto di cappello Kojima. Grazie.